Presidente Beci, sesta edizione di Estatica, un'estate al Porto Turistico, ancora una volta all'insegna dello spettacolo, del divertimento e dei grandi eventi. Sì, siamo assolutamente convinti, i numeri ci hanno dato ragione, d'altronde 80.000 presenze circa che abbiamo avuto l'ultima edizione ci conforta molto. Anche quest'anno all'interno del bilancio camerare, nei meandri del bilancio della Camera di Commercio abbiamo trovato una cifra importante da investire sulla nostra manifestazione di punta presso il Porto Turistico. Volete che il Marina di Pescara resti un punto di riferimento per l'estate della città di Pescara? Il Marina di Pescara è un punto, mi perdoni, di riferimento, noi ne siamo assolutamente convinti, d'altronde è un'infrastruttura importante per la città, che è un moltiplicatore economico per la città. La società di gestione che porta avanti le attività presso il Marina è una società importante, è una società che ha scopi di lucro per cui deve darsi da fare, deve fare attività, deve essere appunto catalizzatore di figure che vengono qui, che arricchiscono il panorama della città. Quest'anno attrizi come Fedez, come Jay Axe, molto graditi ai giovani, io non sono un esperto ma mi dicono che è assolutamente figure giuste per portare qui tanti giovani, per portare qui tanti turisti e per decretare un successo della nostra città. La società di gestione che ha scopi di lucro per la città.